Benvenuti, buongiorno, benvenuti qui alla biblioteca Landolfo Garacciolo curata dalla Fondazione San Bonaventura che oggi si pregia di ospitare questo importante evento. Sono Luigi Arrigo, vicepresidente e fondatore di questo sodalizio e faccio le veci oggi di Carlo Caccavale che è il presidente che era in programma ma che per impegni personali ma di lavoro, di missione è fuori e quindi i saluti sono della nostra fondazione e anche di Carlo che ci seguirà online nella diretta. Sono particolarmente felice di questa occasione e mi scuso con tutti per non averla seguita in presenza già ieri, anche io diciamo purtroppo per impegni personali di lavoro ma ho seguito una parte dei lavori in diretta e soprattutto perché da qualche anno personalmente per conto della fondazione curo un progetto diciamo che è nel filone dell'idea del Mab che poi ha portato a due edizioni di un meeting di cui avrete sentito parlare che si chiama Sbam che gioca un pochino sull'acronimo Mab e gioca un pochino anche sul, che lo unisce diciamo all'acronimo di San Bonaventura e anche così per diciamo sull'effetto della parola, lo confesso, perché è un'occasione la nostra, la seconda edizione si è tenuta nel dicembre scorso, che vuole far incontrare gli operatori diretti, cioè proprio coloro che lavorano all'interno delle nostre strutture, delle biblioteche, degli archivi, dei musei, soprattutto quelle ai margini, quelle un pochino periferiche, perché, e questo mi dà l'occasione per presentare le attività della fondazione, la fondazione nasce dall'intento di alcuni operatori del settore o comunque professionisti che lavorano in questo ambito, ma anche gli appassionati che sono impegnati in tutt'altro ambito lavorativo e professionale, che volevano supportare enti, all'inizio enti religiosi soprattutto, che si trovano ad essere, come dire, ereditari di patrimoni archivistici, librari, che una volta curavano nel migliore dei modi, perché a causa dei numeri, ma che oggi con la contrazione numerica degli ordini religiosi, delle vocazioni, eccetera, rischiano di andare smarriti, di essere persi, di essere dimenticati. Quindi abbiamo iniziato proprio con quest'opera a supporto degli enti religiosi per tirare fuori le chiavi dai cassetti. C'è capitato di trovare biblioteche chiuse da vent'anni e in cui il custode non sapeva neppure dove fosse la chiave, meno male in certi casi, devo dire, perché questo ci ha portato a mantenere integra quella collezione. Ecco, da questa esperienza di volontariato poi nasce un'esperienza di associazionismo, una Ollus che nel tempo è cresciuta e ha cominciato a curare biblioteche che vanno da Pescara a Pantelleria. Per dire, abbiamo la biblioteca più a sud Pantelleria dove alcuni nostri operatori, da cui Milena che è qui in sala, è tornata la settimana scorsa. Quindi questa è l'esperienza iniziale di San Bonaventura. Poi la nostra offerta è stata presentata anche ad altri enti, pubblici, associazioni culturali. Ci siamo cominciati a interessare anche di studi, di collaborazioni con le istituzioni o gli istituti preposti, le associazioni preposti come l'AIB, la BEI, oppure nel mondo archivistico la NAI, l'Associazione Archivistica Ecclesiastica, la MEI o l'AICOM, insomma. Quindi queste collaborazioni ci hanno aperto vari mondi e ci hanno dato l'opportunità di offrire, diciamo, una serie di occasioni di incontro. Ed è così che nascono gli incontri di San Bonaventura che, diciamo, hanno due filoni principali. Uno è archeologico, un altro è appunto quello del mondo degli archivi, delle biblioteche e dei musei. Quindi noi abbiamo due appuntamenti nazionali, devo dire la verità, quello curato del settore archeologico, soprattutto della paleografia e delle scritture, nell'edizione di novembre e del novembre scorso ha avuto proprio un respiro internazionale. E quindi abbiamo questo appuntamento annuale che già vi anticipo a fine settembre del prossimo anno, sarà proprio dedicato alle scritture, ai luoghi e agli oggetti delle scritture e sarà fatto in partenariato con l'Università di Napoli e di Venezia. Avrà una duplice giornata, una a Napoli e una a Venezia. E poi la terza edizione di Sbam, San Bonaventura, Biblioteche, Archivi e Musei, che dopo aver toccato le tematiche dell'Agenda 2030 nella prima edizione e lo scorso anno della sostenibilità del digitale a 360 gradi, scorso anno, diciamo dicembre scorso, quest'anno stiamo studiando un percorso che, diciamo, apra un pochino ad altri mondi, quindi alla scienza, al dialogo anche con gli istituti, ai musei scientifici, di divulgazione scientifica, agli archivi, alle biblioteche e anche a ciò che la scienza o quasi il futuribile, quindi l'intelligenza artificiale, eccetera, potrà proporre nei nostri ambiti. Sono occasioni di incontro in cui ci si scambia idee e si fanno laboratori nei quali magari ci aspettiamo il contributo anche di voi tutti. Abbiamo anche altri progetti, un progetto che ci spinge ancora più a sud, la BiblioAfrica. Abbiamo adottato una biblioteca in Zambia e delle realtà in Zambia, quindi già quest'anno abbiamo fatto un viaggio lì, abbiamo portato una biblioteca digitale, una struttura e una rete, che è quella poi di San Bonaventura, che ha un suo portale, tra l'altro, oltre al nostro sito, sistema bibliotecario San Bonaventura, accessibile, in cui si può fare la ricerca in tutti quanti i nostri istituti che sono collegati con noi. La Bibliobike, avete visto nella sala grande questa bicicletta al centro che troneggia, che è stata realizzata, la missione della Bibliobike era quella di essere a servizio degli ospedali, delle parti pediatrici degli ospedali. Poi è arrivato il Covid e questo è stato impossibile da fare, questa animazione all'interno degli ospedali è stata impossibile, quindi per noi è diventato uno strumento per andare nelle piazze, negli oratori, nei quartieri e quindi fare attività di lettura con i bambini, di lettura espressiva, lettura animata, eccetera. E poi altri, potrete girare qui nei momenti di pausa, nei nostri ambienti e magari poter vedere le tele che sono nella grande sala animarsi e le abbiamo realizzate con un progetto che si fa, Biblioteca Casa Quartiere, quindi con i giovani qui della zona del centro storico di Napoli che curati e formati da specialisti hanno potuto realizzare questa app che anima le tele e le tele ci raccontano la storia del personaggio raffigurato. Oppure c'è l'escape room che è la prima escape room di ambito culturale che praticamente attraversa tutta la storia di Napoli fino alla storia contemporanea, dalla presenza qui di Sisto Quinto che è stato guardiano di San Lorenzo, Petrarca, Boccaccio che di qua sono passati fino a arrivare a Masaniello e non ultimo poi alla presenza documentaria dell'avventura e della storia di Palatucci. Palatucci a cui abbiamo dedicato poi l'installazione che è nel piano ammezzato e che ci presenta la storia del questore di fiume e dello zio e quindi ci apre un mondo nuovo su quest'altro spaccato della storia. Siamo a disposizione per collaborare e per imparare tanto da chi come voi lavora già in quest'ambito da tanto tempo, quindi è veramente con grandissima gioia che abbiamo accolto questo invito ad ospitare questa giornata di studi qui a San Lorenzo, perché ci ha confermato questa scelta che anche il percorso che avevamo avviato noi era un percorso virtuoso, un percorso che si poteva benissimo offrire, ripeto, a quelle che io definisco le realtà, i giocimenti culturali di frontiera, di periferia, le piccole realtà che di solito hanno poche risorse, scarsi mezzi, ma che mettendosi in rete invece possono diventare una realtà forte e che può dare il suo contributo. Grazie e buon lavoro a tutti. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie intanto a tutti gli organizzatori, specialmente a AIB Campania che si è fatta carico di ospitarci e di organizzare tutti i dettagli di questo convegno, atteso ormai da un bel pezzo. Mi scuso, io ieri vi ho potuto seguire solo a distanza per impegni che avevo a Perugia, ma chi c'è stato, i colleghi, mi hanno detto che entrare già nel vivo di quelli che sono gli argomenti del nostro convegno è stato veramente già, come dire, importante, soddisfacente e spero che la giornata di oggi concluda felicemente questo nostro incontro. E' un quinto congresso, un quinto congresso e anche a me piacerebbe chiamare questa cosa più sbam che ma... effettivamente l'effetto di dare un po' una bella così colpo, come un colpo su un tavolo e a volte qualche volta anche così, non dico rovesciare i tavoli ma far saltare qualche bicchiere e anche svegliare qualcuno sulla propria poltrona un po' assopito. E non ho mai la forza di fare queste cose, ve lo anticipo, eccetera, spero che lo facciano però gli oratori di oggi, per noi. Perché la giornata di oggi ci porta verso gli argomenti che poi ci stanno più a cuore. Il mettere le comunità al centro è sempre un discorso, come dire, che noi teniamo nella testa, nel cuore, nelle mani, nei portafogli delle istituzioni e questa è la cosa fondamentale. Più difficile spesso è non farlo, perché farlo lo facciamo, adesso parlando anche con tanti di voi, parlando... Io vengo dal mondo ICOM, anche se poi per mestiere curo anche il settore biblioteche e archivi della mia regione, l'Umbria. Ma è più difficile farlo sapere. Quello che noi facciamo, che voi fate, che facciamo tutti quanti, e spesso e volentieri rimane, malgrado tutti i social, malgrado le cose che possiamo fare, le cose che appunto ci ha raccontato il vice direttore adesso, è difficile farlo sapere in giro. Quindi il primo impegno, credo che noi dobbiamo porci, anche come esito delle giornate del nostro convegno, è quello di far sapere quello che facciamo. Farlo sapere in alto ai decisori politici, in primis al Ministero della Cultura, ai decisori e politici delle regioni, dei comuni, e poi farlo sapere sempre di più ai cittadini. I cittadini sono quelli a cui noi, come dire, dobbiamo dare conto. Sono quelli che anche ieri è stato pubblicato il rapporto, non di un'associazione, come dire, disinteressato o semplicemente di anime belle, ConfCommercio, continuano a pubblicare dati mensili sui consumi culturali, qualcuno di voi li avrà visti, i consumi culturali scendono. Calano e calano, ma non calano uniformemente. In certi casi si alzano, si alzano per chi sta bene, si alzano per chi ha già, calano per chi non ha. E questo chiaramente ci porta verso uno degli obiettivi che il nostro sistema di istituti culturali ha come obiettivo. Quello di diventare vere infrastrutture della conoscenza, di diventare posti dove la democrazia culturale si attua. Si attua perché? Perché abbiamo non soltanto la responsabilità di conservare le memorie, di esporle, di metterle in evidenza, di valorizzarle, di farle conoscere, ma anche quelle di far sì che abbiano poi un impatto sulla vita delle persone, in particolar modo di quelle più giovani, che contribuiscano a rendere i cittadini più cittadini e a superare tutti quei divari che oggi focalizziamo sempre di più sul divario nel digitale, ma i divari nella conoscenza, i divari nell'accesso a un'istruzione, i divari nell'espressione delle proprie potenzialità. Questi sono i punti al centro dei nostri istituti culturali. I nostri istituti culturali che hanno necessità di tante cose, ma hanno necessità specialmente di diventare luoghi nei quali, e questo sicuramente oggi uscirà fuori, si va più poveri e si esce più ricchi. È una cosa un po' così, un po' potrebbe essere utopistica. Non deve essere utopistica. Io continuo a pensare, per esempio, che la Convenzione di Faro sia il momento nel quale l'Unione Europea, e poi alla fine anche l'Italia, ha potuto riconoscere non soltanto il diritto ad essere attori in primis rispetto a un'eredità culturale, ma sia anche il momento nel quale si è riconosciuto l'unitarietà di un patrimonio, che infatti non viene mai declinato in singoli settori specialistici. È un problema di memoria. Musei, archivi, biblioteche hanno veramente, non soltanto depositare delle memorie, ma sono i luoghi nei quali queste memorie poi alla fine devono servire a fare qualche cosa. Allora a me mi piacerebbe che questo Mab diventasse una comunità di eredità, nello spirito di Faro. Pensiamo sempre che le comunità di eredità di Faro siano quelle locali, le proprie mappe del territorio, i propri sistemi identitari locali. In realtà Mab può diventare veramente una comunità di eredità nazionale. se noi tutti ci impegniamo a condividere gli obiettivi e a essere quelli che la fanno in qualche modo circolare questa idea. E per far circolare questa idea io non faccio un intervento vero e proprio, lancio un pochino la parola ai relatori della giornata. Per far circolare questa idea, per diventare sempre più utili alla società, noi abbiamo bisogno in qualche modo di riprendere un po' la strada. E quello che ci racconterà Claudio Leombroni, cosa è stato Mab in questi anni, che cosa può diventare. Anche le difficoltà, ieri le esperienze che sono uscite, che mi hanno raccontato e che in parte conosco, dei Mab locali, raccontano il fatto che dove ci sono persone, perché tanto poi alla fine si riduce tutto quanto, non a infrastrutture complicate, comitati eccetera, ma il fatto che le persone decidano di fare delle cose e lo facciano insieme. Quindi sappiamo che questo può e può funzionare, però abbiamo bisogno anche di delle basi giuridiche, di basi che siano anche di strumentazione. Per questo non posso dimenticare che noi stiamo ancora fermi al fatto di non avere dei requisiti minimi, importanti per archivi e biblioteche. Per i musei li abbiamo avuti, ma sappiamo che dobbiamo lavorarci. Il fatto che dovremmo anche guardare con attenzione, forse anche con preoccupazione, al fatto che si parla di autonomia differenziata, cosa significherebbe in questo caso acquisire da parte delle regioni la totale giurisdizione sul patrimonio culturale? Allora, questi requisiti che oggi ci mancano possono diventare i livelli essenziali di cui si parla per tante materie che sono oggetto di possibile trasferimento alle regioni? È sempre più urgente parlare del fatto che le prestazioni, i servizi, le attività che svolgono i nostri istituti debbano essere misurabili, certificabili, ma anche omogenee in tutta Italia. Sappiamo bene che anche questo è un altro dei divari importanti, quello che separa le regioni più ricche, non soltanto quelle del nord, ma prevalentemente il nord e centro, da quelle meridionali. sappiamo anche che abbiamo bisogno, se questa effettivamente è una delle strade importanti, quelle di lavorare sempre di più insieme, tra istituti, dovranno esserci anche delle forme di sostegno a queste forme di aggregazione, uscire dagli steccati, forse lavorare in modo diverso, lavorare diversamente tra professionisti, anche insieme alle università. non tocco il tema dei professionisti, probabilmente questo è il tema dei temi, il fatto che in personale, come si diceva, è sempre meno, il reclutamento è sempre più drammaticamente, così sporadico e anche insoddisfacente per chi ha studiato per tanti anni, si è formato a fior di competenze e non le vede pienamente riconosciute. Le istanze che noi presenteremo con un documento finale che uscirà da questa giornata, più o meno saranno queste. Ma ci sono tanti altri temi che possiamo portare sul tavolo. Michele Lanzinger, addirittura dal punto di vista, come si chiama, dal suo punto di vista, dal suo punto di osservazione specifica dei musei scientifici, veramente i musei possono diventare anche qualcos'altro rispetto alle sfide del futuro, i famosi goal dell'agenda 2030, probabilmente sì, probabilmente dobbiamo essere anche più ambiziosi per farci conoscere, per farci prendere in considerazione e per essere veramente utili alla società. e gli archivi, gli archivi possono diventare strumenti importantissimi per la partecipazione, perché mantengono la, non solo mantengono, ma sono sempre più ambiti anche come luoghi nei quali si può acquisire ulteriori anche strumenti per la propria vita, le conoscenze, la vita sociale e anche la pratica culturale e politica. E di questo ci parlerà Concetta Damiani di Anai. Per poi finire effettivamente, la public history, come si contribuisce a costruire una narrazione storica, una storia attraverso questi, attraverso i nostri istituti. Serge Noiré a questo punto finisce gli interventi della mattinata a cui seguirà naturalmente un dibattito con i rappresentanti delle associazioni. Quindi io non vi rubo altro tempo e spero con questo di avere sufficientemente colzato la palla perché i nostri relatori, a cominciare da Claudio Leombroni, possano poi intervenire. Grazie. Grazie. In effetti Antonella ha sintetizzato il senso di questa sessione mattutina che avevamo preannunciato ieri. Avevamo detto una sessione più politica. politica. Ma politica. Adesso gli inglesi hanno maggiore precisione nell'utilizzo del termine politica perché la nostra lingua è un po' ambiguo. Non vuol dire in questo caso politics. Vuol dire occuparsi di policy. Cosa che credo tutti noi nel nostro piccolo l'abbiamo fatto. Occuparsi di policy vuol dire occuparsi delle azioni o delle soluzioni riguardanti un problema di interesse collettivo. ho sintetizzato tra le tantissime definizioni del termine nella letteratura quella forse più acconcia per noi. Ed è questo che noi facciamo che le associazioni fanno. Ora io ho il compito di parlare di un di un tema che le singole associazioni ma anche Mab hanno sollevato nel corso di questi anni. Come singolo professionista io ho cominciato a rifletterci questo da da tanto tempo anche perché ho sempre lavorato in un chiamiamolo framework che è il servizio bibliotecario nazionale che si è mosso ha agglomerato negli anni tante esperienze. Ne ho scritto sul Capitale Culturale la rivista di Montella oggi diretta da Petraroi un paio d'anni fa ma qui vorrei declinarla proprio dal punto di vista dell'operazione della operatività delle associazioni e l'altra precisazione riguarda il termine nazionale. Nazionale già nell'esperienza SBN non vuol dire statale vuol dire proprio nel rispetto del dettato costituzionale dell'intera nazione quindi un sistema di cui noi che possiamo immaginare riguarda tutto le comunità e i livelli istituzionali del paese sembra una precisazione scontata ma non lo è ogni tanto emerge quasi fosse un riflesso incondizionato ora naturalmente parlare di questo vuol dire pensare ad alcune azioni che possiamo fare come associazioni vuol dire anche ha un atteggiamento che dobbiamo avere come singoli professionisti e io infatti parlerò da bibliotecario in questo caso ma anche da persone che si è occupate in realtà nella carriera di tutti e tre gli ambiti ma parlare come professionista quindi sebbene io lavoro in una regione dimentico questa appartenenza e parlo da professionista e non a caso sono qui in ferie parlo ed è questo che io ho sempre cercato di fare perché i professionisti come vedete Mab per la prima volta i professionisti del patrimonio culturale ecco noi come professionisti del patrimonio culturale dobbiamo avere un'idea di quello naturalmente che dovrebbe essere la qualità l'estensione dei nostri servizi con l'obiettivo appunto di che è sempre stato nel DNA delle professioni quello di offrire agli utenti e alle comunità dei servizi in grado di migliorare l'attività come dire la vita del paese allora a proposito di come noi dovremmo essere e visto che ieri abbiamo parlato di fotografia questo è ad esempio un bibliotecario americano di molti anni fa che a proposito di parla di tante cose ma anche della fotografia in un saggio di cui in cui confronta biblioteca e museo e Bostwick parla appunto e dice che le zone di confine sono quelle più interessanti e nella nostra professione nel confrontarci biblioteche archivi musei stando al confine si possono vedere cose da punti di vista molto più interessanti forse che stando all'interno per inciso lui inserisce la fotografia in quegli ambiti in cui c'è e chiama oggetto liminale la fotografia proprio perché sta in un ambito dice in cui è lecito oltrepassare i confini cioè la biblioteca può interpretarli in un modo il museo in un altro ma è un ambito comunque cross di confine la sessione di ieri era di questo tipo a proposito della sessione di ieri mi corre l'obbligo di fare una breve parentesi anche perché mi è stata segnalata da alcune colleghe ma che poi vedrete ha un senso in questo caso ad esempio la regione Emilia Romagna ha fatto per un'operazione notevole da tanti anni per cui non poco ma oltre 4 milioni di oggetti sono nei poli SVN e questi dovrebbero essere anche perché ne abbiamo parlato con Simonetta Buttota da tempo dovrebbero essere non emersi dal dal buio diciamo così ma essere più accessibili riversati dai poli anche in indice ma sono visibili anche adesso perché internet esiste e collega tutti i nostri punti ora questo valore di esplorare soglie confini passaggi questo deve essere parte delle nostre curiosità ma c'è di più adesso questa è una bibliotecaria ma è una grande persona ed è una grandissima dirigente stata dello Stato Angela Vinai Angela Vinai è stata una di quelle persone io non l'ho conosciuto ho conosciuto su allieve che vi farò vedere subito dopo lei riusciva a rivestire oggi sarebbe impossibile devo dire ma per altri profili le cariche di presidente dell'AIB direttrice dell'ICU presidente di comitati di settore oggi sarebbe un conflitto di interesse si sarebbe qualcuno che arriva dicendo lei lo faceva e in discussioni pubbliche in questa veste criticava anche le politiche del suo ministero e del suo direttore generale perché riteneva come l'associazione ha ritenuto da anni e come noi dobbiamo fare a mio avviso che dentro l'AIB dentro l'ICOM dentro l'ANAI dentro MAB noi ci stiamo occupando di interessi pubblici non di interesse cioè la politica dell'associazione dell'AIB o dell'ANAI o di ICOM si estrinseca su ambiti che sono di interesse pubblico e su questa lei è stata sempre intransigente e usava un'espressione che io ho messo in grassetto essere autori di noi stessi se noi riusciamo ad esserlo anche come senza timore di avere come dire incidenti di percorso proprio come professionisti questo secondo me è la base per cui i nostri sogni o le nostre proposte possono realizzarsi e lei non è stata sola in questo qui io ho messo tre persone di diversa appartenenza tutte hanno un'origine da bibliotecario statale però sono diverse due sono due mie care amiche che questo mi hanno insegnato e che sono Lalla Soggio e Anna Maria Mandillo purtroppo scomparse il terzo ha influito sulla mia formazione ed è questo solo i più anziani lo possono ricordare Nazareno Pisauri il quale da dirigente regionale da direttore dell'Ibc o da soprintendente regionale ai beni librari non aveva paura di dire le cose anche nei confronti del proprio assessore o della propria perché riteneva come riteniamo tutti noi di parlare di cose di proporre azioni che attenevano l'interesse pubblico cioè dare a questo paese quasi gramscianamente un'organizzazione media della cultura fatta anche di biblioteche musee che consenta di elevarne la qualità e consenta alle comunità di vivere meglio e di progettare con più consapevolezza il proprio futuro questa è un'altra frase molto legata a Nazareno Pisaure che non ha bisogno di un uomo libero e lui diceva la libertà lui usava la Luxemburg la libertà è sempre solo la libertà di chi la pensa diversamente e lui in questo ha naturalmente insegnato ora Antonella ha detto ripensiamo anche alla nostra attività come Mab noi abbiamo iniziato nel 2012 non so quanti di noi ci fossero io lì ci sono ci sono stato forse ero naturalmente sono dieci anni quindi dieci anni meno e magari maggiore voglia di sognare non l'ho persa qualche qualche difficoltà comincio ad averla e abbiamo cominciato a ragionare su tante cose che poi vedremo molto sinteticamente però diciamo fino ad allora abbiamo lavorato adesso quello che potremmo dire in un'orbita che era quella del delle delle politiche per i beni culturali e qui facciamo un piccolo ragionamento scusate che ecco mi posiziono questa è una foto che si trova su web qualche anno fa ebbi per caso la presentai in una dipositiva le slide finiscono su web ergo anche la foto è finita su web questo per i bibliotecari è un momento storico qui sono ci sono tanti colleghi che hanno poi sono all'origine di SBN Angela Vinay Corrado Pettenati Luigi Crocetti Lalla Sogio Michel Boasset e così via ma perché è solo un pretesto per dire che quella stagione dei beni culturali a quella stagione Angela Vinay inferse diciamo un momento di stacco si può dire una piccola frattura perché poco dopo la commissione Franceschini che portò al centro del dibattito la nozione di bene culturale che poi nel 76 sarà dal punto di vista giuridico disegnata con una precisione a volte anche impressionante da Massimo Severo Giannini lei dice una cosa dice noi biblioteche però non siamo solo conservatori non abbiamo solo quella che chiamava una mentalità tutelare ma abbiamo dobbiamo gestire l'informazione proiettarsi verso il futuro dare ai cittadini non solo ciò che abbiamo quello che è presente in questa sale ma anche ciò che non abbiamo e che loro chiedono lì cominciò e qui il dibattito e anche le nostre idee naturalmente possono essere le più varie ma sottrasse le biblioteche nella loro interezza almeno in parte al discorso e alla semantica dei beni culturali quella lunga stagione dell'AIB che è una delle pagine forse più belle anni 70 e inizio anni 80 presidenti del calibro di Renato Pagetti Angela Vinai e Luigi Crocetti in fila era una congiuntura astrale di grande espressore portò alle tesi di Viareggio che ribadisce l'informazione è un diritto identificare le biblioteche come beni culturali snatura la loro dico questo perché ragionando da istituti in quel modo la nozione di bene culturale perde una forza unificante dei tre istituti diciamo così cioè esiste ma quel discorso segna e introduce per le biblioteche delle caratteristiche particolari dietro questa lunga stagione ovviamente c'è una rivoluzione sociale enorme c'è il 68 c'è tutto quello che sappiamo e c'è la comunità che chiede di partecipare in quegli anni comincia la gestione sociale delle biblioteche poi concetto che negli anni successivi è un edilizio successivi fu riconfigurato ridimensionato e così via quella rivoluzione tocca in modo principio le biblioteche ma ma non solo questo è come direbbe il mio fratello maggiore già là un museante ma un grande museante perché stiamo parlando di Franco Russoli lo cito perché l'emergenza della come dire della società delle delle del dinamismo della società italiana ha un un influsso e i migliori professionisti ragionano su questo e lui ragiona e ci sono molti scritti questo i suoi scritti sono stati ripubblicati qualche anno fa da Schirà e dice cose che riflettono quella apertura delle professioni a ciò che sta accadendo della società fare museologia è un po' come fare la politica vedete la cosa può essere applicata anche ad altre professioni l'apertura del museo alla società e l'utilizzo del museo stesso come bene comune e così via questo passando al mondo degli archivi è Claudio Pavone e anche lui quindi non solo l'AIB che deduce da tutto ciò che accade fuori che la biblioteca non è un bene culturale Claudio Pavone in un saggio che dal mio punto di vista rappresenta un po' la modernità italiana cioè è un articolo famoso scritto con Piero D'Angiolini nella storia d'Italia e in Audi dove scrive anche Emiliani dove mancano le biblioteche per ragioni che Crocetti ha illustrato Casa Massima che doveva fare la voce biblioteca e non la fece ma quella era una sede prestigiosa negli anni settanta e Pavone vedete che anche lui dal punto di vista dell'archivio dice l'archivista deve abituarsi a vedere il suo istituto come un centro di vita culturale e quindi apre anch'esso alla società alle comunità ed è questo una linea di continuità nella storia dei nostri istituti che poi emerge come vedremo molto negli ultimi anni ma non è improvvisa perché nelle migliori espressioni delle nostre associazioni questa è una percezione che ha un vissuto notevole ecco quindi questa è una prima riflessione che possiamo fare per quella stagione il concetto di bene culturale non è stato un concetto unificante però la coscienza di un sistema nazionale che dobbiamo avere quindi deve comunque fare riferimento a un lessico comune e qui torniamo a Mab la sessione 2019 che si si tenne a Roma cercò di porre questo questo problema e cioè il lessico non so se vi ricordate anche un intervento di Daniele Jallat in proposito e cioè un lessico che ci consenta di condividere per agire per proporre al paese un sistema ma dobbiamo condividere dei concetti questo è Boasset è uno dei padri anzi forse è il progestista con Angela Vinai del servizio bibliotecario nazionale e a un certo punto già dopo essere andato via da Fiesole scrive questo quali sono gli obiettivi del servizio bibliotecario nazionale se li leggete vedete che non cita catalogazione partecipata architetture stellari polo indice e quant'altro lui dice ma non solo lui quel gruppo garantire la localizzazione e la circolazione dei documenti rendere possibile una politica delle acquisizioni per assicurare la massima copertura dei bisogni su questo in altri paesi già dal dopoguerra si erano avviate tutta una serie di azioni rendere possibile una politica di conservazione a livello nazionale facilitare l'organizzazione di agglomerazioni cooperative anche specialistiche vedete che c'è tutt'altro ma da lì traspare come l'idea del servizio bibliotecario nazionale sia stata un tentativo di riorganizzare complessivamente le politiche del settore di alto profilo un sogno davvero di spessore non taccio su quello che è accaduto dopo perché non è qui il caso ma ognuno di voi può trarre dei convincimenti e vediamo quindi al dunque dopo la stagione dei beni culturali con queste aperture è cominciata ad apparire nella nostra pratica un altro concetto quello di patrimonio culturale ed è su questo vedete che Mab si connota perché dice professionisti del patrimonio culturale anche questa non è un'idea nata così per caso improvvisamente c'è stata faro allora tutti no ci sono state come sempre accade non possiamo prendere una cetta nella storia e dire prima era così e poi era così e quindi qui io non posso non citare ma non è non è perché ho avuto sì ma anche la fortuna e devo dire anche di dirigere quegli istituti in un periodo devo dire non fortunato quello è stato un laboratorio di idee e lo è stato sul versante del museo sul versante delle biblioteche perché c'erano tutti e tre Andrea Emiliani lo chiamava il luogo del futuro anche anche quella è stata un'esperienza collegata al regionalismo che ha avuto delle espressioni felicissime poi naturalmente col degrado del col digradare del regionalismo anche lì c'è stato però ci sono state delle elaborazioni di straordinario rilievo ora ritorno a Nazareno Pisauri questa vedete è Bologna anni 70 con 74 l'istituto è stato istituito quindi prima del ministero dei beni culturali e un influsso sulla costruzione da un certo punto di vista ci può essere anche stato ed è documentato anche da Spadolini che a Bologna si recopere guardate Nazareno Pisauri ho scelto alcune sue frasi Mab diciamo archivisti bibliotecari storici dell'arte o museologi non possono continuare a gestire le loro scarabattole questo per chi lo ha conosciuto era un modulo in maniera assolutamente separata integrazione va bene solo se non si traduce in omologazione deve significare questo è un concetto valido anche oggi attenzione deve significare valorizzazione delle differenze delle vocazioni differenziali dei servizi delle risposte a domande che oggi più che in passato appaiono estremamente differenziate e ancora integrazione può far pensare a centralismo questo ce lo dobbiamo tenere in mente perché è di grande attualità questa equazione va sventata anche perché è contraria all'idea di sistema nazionale con nazionale declinato come ho detto prima almeno per i beni culturali ci vuole altro che una università delle solite ci servono infrastrutture e metodologie di ricerca che non vorrei più chiamare università ma pluriversità e così via poi questo lo leggete senza il mio bisogno del mio aiuto questo è un altro personaggio dell'AIB ma sto andando dell'IBC sto andando a caso solo per dire quello che ho detto che non nasce a caso questa successiva come chiamerei proprio stagione del patrimonio il decentramento non va anche questo è un concetto importante non va inteso come abdicazione delle responsabilità da parte dello Stato ma come potenziamento del suo ruolo di indirizzo e coordinamento e qui c'è un problema segnalato in 30 anni di carriera in tante riunioni con i colleghi dello Stato che pure ha avuto anche per me dei maestri e delle maestre ne ho indicate qualcuno non sempre si è percepito il sapere interpretarsi come centro di un sistema ma più che altro come centro burocratico o gerarchico non è quello che connota il sistema il sistema non si può basare su relazioni gerarchiche soprattutto non lo può essere nel mondo di oggi deve essere questo al centro il centro va potenziato e dobbiamo dire ad esempio che gli istituti centrali vanno potenziati per esercitare questo ruolo di coordinamento che però vuol dire che in periferia ci sono delle attività decentrate non è immaginabile gestire sistemi di complessità ponendoli al centro e per di più senza rafforzarne gli organici o le risorse da un punto di vista manageriale ora lo vedo anche da qua noi facciamo un mestiere che ci porta a fare queste considerazioni ma non è possibile fare questo tipo di senza immaginarsi appunto un centro che abbia anche le strutture per fare questo e questo deve emergere un altro personaggio che ha posto alla base della riflessione è Andrea Emiliani Andrea Emiliani ha teorizzato il rapporto anche nella disciplina delle conservazioni il rapporto con la comunità per Emiliani è questo rapporto che consente politiche di tutela più efficace proprio perché la comunità si riconosce in queste politiche qui vado veloce perché non vorrei sottrarre negli ultimi a partire dagli anni 80 anche a livello internazionale soprattutto devo dire in ambito museologico nell'ambito delle archeologie eccetera ci sono stati studi di straordinaria anche forza teorica penso agli heritage studies anglosassoni che hanno in qualche modo anticipato Faro ponendo all'attenzione appunto il ruolo l'oggetto patrimoniale come fatto anche sociale cioè con la comunità che si riconosce in questo e quindi hanno cominciato a porre a criticare penso a Lord James Smith l'idea che il bene culturale sia definito vedete che che sia qualcosa che qualche esperto inserisce in un elenco e in questa sua analisi ha cominciato a criticare anche l'UNESCO ad esempio quello è il bene culturale ufficiale poi c'è un altro mondo da qui noi ci siamo confrontati anche con Faro l'inizio di Mabba è il 12 Faro è il 2015 ma la sottoscrizione da parte dell'Italia la sottoscrizione credo sia del 12 o del 13 la ratifica no la sottoscrizione sì poi la ratifica di recente dobbiamo anche dire che non tutti i paesi hanno aderito a Faro quelli grandi e tuttavia Faro ha dentro di sé concetti e una semantica sulla quale le associazioni stanno costruendo quell'idea di sistema nazionale che non può non avere la partecipazione delle comunità alla base le nostre professioni da sempre cercano il riconoscimento sociale sulle professioni riconoscere questo ruolo alle comunità anche in una certa misura nella identificazione dei contenuti patrimoniali è una grandissima novità poi qualcuno può anche dire che è frutto del populismo in qualche modo contemporaneo della critica agli esperti eccetera ma qui se ci pensate emerge un ruolo fondamentale di noi professionisti come mediazione tra queste istanze e le comunità chiamiamole così epistemiche degli esperti e le comunità nel suo complesso nel primo anno è stato affrontato proprio negli stati generali MAB l'idea di sistema culturale definito così come vedete questo lo potete anche vedere nel sito che sicuramente necessiterà di aggiornamenti ma ci sono ancora tracce di quelle elaborazioni nei documenti si è quindi focalizzato sulla sulla definizione di sistema culturale in un'ottica integrata vado avanti veloce quindi per farvi vedere un'ultima cosa che è questa che magari Rosa riconosce Rosa Maiello perché questa esattamente più o meno quello che sto dicendo si trova approvato in un documento redatto per la riorganizzazione delle biblioteche statali e approvato dal Consiglio Superiore dei beni culturali in questo caso è uno schemino che schizzai io prendendolo da cose che facevo durante il lavoro ed è il disegno di un sistema multiscala vedete che è il nostro sistema nazionale del patrimonio con l'avvertenza che la distribuzione sui vari livelli non è fatta per aspettative di ruolo ruoli gerarchico burocratici ma con criteri gestionali o manageriali cioè dove è più efficiente e efficace gestire queste cose e se ci mettessimo a riflettere su questo noi vedremo che non è così complicato gestire livelli infrastrutturali statali regionali a partire da quello che nessuno mette in discussione cioè che i servizi di prossimità stanno detto questo io finisco qui ma Antonella ha citato due dei temi importanti all'inizio ora Mab è l'espressione delle associazioni quindi più correttamente saranno le associazioni a discuterne però l'impatto su Mab è pesante nel senso cioè esiste nel senso che sono temi che devono riguardare tutte le associazioni uno è quello dell'autonomia differenziata qualche tempo fa mi sono sentito dire che il rapporto stato regioni è roba da medioevo eccetera io sono sempre stato sul versante degli enti locali quindi per la maggior parte della mia carriera quindi anche a me non è che eccita più di tanto ma esiste esiste e questo l'autonomia differenziata lo rivela immediatamente quello che diceva Antonella deve essere nell'agenda deve esserlo perché l'autonomia differenziata è in costituzione quindi non stiamo parlando però c'è molta confusione sul tema perché viene confusa o con secessione o con federalismi di varia natura noi dobbiamo essere attrezzati perché uno per quello che diceva Antonella i livelli di servizio ma attenzione perché è già successo e ricordo che proprio a Napoli dopo la riforma del Rio a chi compete la cultura ne parlammo e cioè c'è il rischio adesso un po' meno magari perché sono stati qualificati come servizi essenziali biblioteche musei però c'è il rischio che nella definizione dei costi standard dei servizi e questi finiscono nelle spese accessorie od opzionali quindi quello è un tema da presidiare oltre che ciascuno di noi poi come cittadino può pensare naturalmente dell'autonomia differenziata ciò che vuole secondo tema che a me ha richiamato anche Daniele Giallà sono le linee di indirizzo del ministro di cui finora non si è parlato del ministro San Giuliano peraltro di questa città che io non commento nel senso che non ho ancora riflettuto a fondo sulla cosa però credo che l'approccio generale anche l'idea di valorizzare in modo più consistente di aumentare i prezzi di biglietti imposte e quant'altro richieda da parte delle associazioni una riflessione perché naturalmente se per noi il sistema museale il sistema nazionale del patrimonio deve essere quasi un'idea regolativa della regione della ragione cioè un sogno chiamate una cosa da fare i temi che stiamo toccando sono essenziali dobbiamo poter dire la nostra e dover dire la nostra perché noi abbiamo come orientamento le comunità quindi questo dovrà sicuramente essere fatto e credo che le associazioni lo faranno adesso l'AIB deve andare alle elezioni ma credo che questo è un tema che sta nell'agenda le altre associazioni sono nel pieno esercizio quindi credo sia il primo tema MAB da affrontare autonomia due anzi autonomia differenziata linee di indirizzo del ministro per esprimere per esprimere la nostra dobbiamo farlo senza paura dobbiamo farlo nella convinzione che ci è sempre stata propria di di rappresentare l'interesse pubblico e credo che tutti noi condividiamo il fatto che biblioteche archivi musei sono interesse pubblico sono fattori essenziali delle comunità di questo paese finisco qui perché se no scado nelle prediche quindi data l'età grazie grazie a Claudio anche per averci come dire fatto capire che non non parliamo di cose inventate ieri forse neanche ci sono alcuni temi che noi come dire possiamo assumere già da diversi decenni se abbiamo una lunga storia e sicuramente avremo anche un lungo futuro e forse ci sono dei bisogni inespressi oggi delle pratiche forse agenda politica che potremmo aiutare anche il ministro a sviluppare anche su altri temi non soltanto su quelli che è indicato nel suo documento che più che priorità politiche sembrano come dire strumenti di attuazione di politiche e questo Michele Lanzinger ci darà qualche suggerimento cioè perché i Mab non dovrebbero occuparsi le cose che davvero contano oggi se mettiamo una lista delle facciamo una specie di sondaggio cosa conta oggi effettivamente probabilmente il libero accesso alla conoscenza non sarebbe la prima cosa ma molta gente non lo sa però noi ci occuperemo anche di cose che invece contano grazie grazie davvero per questa prima opportunità di parlare in un consesso così autorevole scusate se ieri non ero con voi ma come vedete io commetto ancora il mestiere di direttore di museo e quindi in qualche maniera ho a volte qualche difficoltà anche se ho preso con grandissimo onore e impegno questo compito da pochi mesi di presidente dell'International Council of Museum Italia di cui davvero ammiro molto l'attività e in questo momento comunque non so ancora esprimere sufficiente competenza avrete pazienza se anche nel mio intervento sicuramente non è all'altezza di chi è da anni inserito in questa riflessione tuttavia per quanto abbia potuto prepararmi a questo incontro dove vedrete io darò una lettura essenzialmente limitatamente alla dimensione museale e una grandissima fiducia nell'azione che Mab può svolgere nella nostra comunità e la relazione di Claudio e questo abbiamo visto poc'anzi sicuramente porta in questa direzione francamente mi sento molto mabista e quindi molto azionista molto attivo nel senso che secondo me davvero ci sono potenzialità molto forti quindi questa dimensione di lobby attraverso un mabismo secondo me potrebbe proprio essere una dimissione molto importante devo andare veloce scusate tenderei a far tardi ma questo concetto di comunità è una comunità davvero multiscala come abbiamo poi visto e questo ci permette anche di affrontare l'argomento secondo una forchetta basso alto nel senso che abbiamo la taglia delle istituzioni e il livello di policy nazionale regionale che abbiamo visto sarà un bel argomento ma poi l'operatività e la progettualità con i servizi di prossimità altro basso e alto la nostra attenzione sulla componente di conservazione dei patrimoni ma che deve legarsi con il nostro ruolo sociale quindi una dimensione di traiettorie che vedrei e quindi è complicato dare una definizione unitaria sintetica dal momento che davvero abbiamo bisogno di una dimensione multiscala quasi un network quasi se dobbiamo immaginarcelo quando vediamo quelle matrici quasi neuronali di relazione dove sicuramente gli elementi liminali gli elementi di confine un biologo naturalista direbbe di ecotono sono i luoghi dove la biodiversità si manifesta al meglio e quindi proprio per questo credo che le potenzialità di Mab siano importanti sicuramente le mie riflessioni avranno elementi di ripetizione ridondanza o inutilità rispetto ad esempio aver citato io stesso vedremo dopo i temi di Faro eccetera sicuramente il tema della sostenibilità è un tema noto però in qualche maniera quello che vorrei parlarne secondo la prospettiva dei musei è il fatto che si accompagna con esso sostanzialmente una visione di futuro e quindi è su questo che vorrei portare poi però prendendo ancora un istante di premessa dalla relazione iniziale di Antonella la questione del saper fare del saper dire in qualche maniera comunicare la nostra esistenza in realtà non sono fasi diverse la realtà non esiste se non è oggetto di narrazione e almeno aggiungo io a livello di Homo Sapiens non lo dico io recentemente quando dico recentemente è quest'ultimo lunedì non ho capito bene perché sono stato chiamato in un momento formativo di qualcuno che produce si chiama Melinda ma fa camion training di produzione e anche di dollari però a riflettere sul fatto del saper fare del saper comunicare far sapere era stato chiamato Alessandro Barricco e quindi questa frase sua mi permetto di riportarlo bene quindi saper fare e far sapere è una questione di farlo bene e sicuramente il discorso di costruire un percorso comune un lessico comune è uno degli elementi assolutamente positivi del nostro percorso allora io tengo questa struttura con le slide accanto bene e vedo se funziona così no ok allora banalità perché cosa c'entrano i musei con la giustizia climatica e la sviluppo sostenibile e guardate io è ben vero che vengo da un museo naturalistico scientifico ma questo racconto noi lo facciamo e ce lo facciamo con tutti i musei allora di nuovo c'è questo vizio del powerpoint di scrivere le frasi quindi io potrei semplicemente cliccare voi leggete sarebbe anche tutto più rilassante ma insomma vabbè l'avete più o meno letto quindi c'è questo concetto di bene non replicabile e quindi il concetto stesso di salvaguardia ha una finalità di conservazione allora però c'è anche da dire che effettivamente questo è un mood pessima parola ma come parli è un sentimento che incomincia a essere molto percepito dalla nostra comunità e se ogni tanto qualcuno di voi capita ancora di guardare quella strana una volta era una scatola adesso ha una cosa piatta che si chiama televisione vedete che anche le super crociere con su 6.000 persone si dichiarano ecco sostenibili se c'è una macchina che è totalmente non sostenibile sono i grandi transatlantici le petroliere vabbè comunque voglio dire evidentemente fa bene dico una banalità non lo leggiamo tutto però sviluppo sostenibile future generazioni torniamo a dire questo concetto lo ricordo solo lo riporto solo perché ci si mette poco è lo sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere le possibilità delle generazioni future perché lo cito solo perché non è proprio un concetto così nuovo anche qua sotto un bravo architetto paesaggista più o meno del secolo scorso diceva ciascuno di noi è impegnato a sovegliare e costruire il giusto ordinamento del paesaggio terrestre ciascuno con il suo spirito e con le sue mani nella porzione che gli spetta per evitare di tramandare ai nostri figli un tesoro minore di quello lasciatoci dai nostri padri in realtà era un architetto paesaggista americano era stato molto vicino a quei famosi capo e tribù indiani che vengono considerati e gli estensori di questo concetto di sviluppo sostenibile comunque qui c'è anche un piccolo problema di inquadramento sto perdendo le frasi giù sotto ma è lo stesso perché la parte che adesso vi faccio vedere è in cima allora anche quando parliamo di conservazione o ci sbagliamo o ne diciamo solo una parte ma anche chi noi rispettiamo come Vittorio Sgarbi dice alla conservazione innanzitutto chi è contrario o chi mai vorrebbe non conservare il patrimonio e la conservazione del patrimonio artistico è essenziale dobbiamo essere tutti conservatori ci sentiamo meglio e ci sentiamo bene quando facciamo un'operazione di conservazione però perché lo facciamo evidentemente per tenere viva una tradizione e portarla verso il futuro non a caso il nostro presidente della repubblica un mesetto fa o poco più nell'ambito delle capitali italiane della cultura dice l'umanesimo nel nostro DNA quindi fa proprio parte del nostro modo di essere abbiamo il compito di arricchirlo di fonderlo per dare ai giovani un percorso di vita che dovranno ottonamente sviluppare quindi qui c'è davvero una nozione molto chiara di sguardo e allora ecco per cui ecco il motivo per il quale mi sono permesso di dare questo titolo perché non dovremmo come musei ma a questo punto riflettiamo assieme dare occuparsi delle cose che davvero contano perché effettivamente ci sono delle cose che abbiamo attorno che sono veramente funzionali quindi senza mettere in discussore minimamente alcuni aspetti come vediamo fra un attimo tradizionali e del nostro della nostra missione è il caso che ci interroghiamo se non dedicarci anche in questo e chiedo di farlo ciascuno nella sua prospettiva io lo faccio da museo ma secondo me viene benissimo e lo vedo grazie grazie